Oh! Ah, che stai facendo? Oh, che stai facendo? Ah, Nicola, come sono questi panini? Ci senti buoni? Ti piacciono? Veramente? No, no, no. No, non stai facendo una canzone. Facciate? Stai facendo la fotografia, ma... E sta con... Ma sto come un paparo che suba per la miseria. Ma sta... Ma la grande? Se volevo la musica ci risponsare, eh, sarà. Ma non lo faccio risponsare. No, ma queste non ci risponsano i totali. Non lo sai, ci sono scalare. Una cosa come mole... Fuori saldati da terra, cimentati. Il cimento c'è... Calare tutto questo. Calare quando... Perché hanno un giro. Eh, sì. Però ora ho guagliato un cimento.